Ultima presenta una promozione unica, Legendary Promo. Grazie ad essa scoprirai infinite opportunità di guadagno sul mercato delle criptovalute. Legendary Promo è la tua occasione per valutare il prodotto più avanzato del mercato alle condizioni più vantaggiose. Per tutta la durata della promozione, Ultima aumenta il limite delle licenze BASIC, PRO e DIAMOND. Maggiori limiti della tua licenza, più split contract puoi pagare. Il limite aggiuntivo delle licenze si riduce ogni settimana, quindi prima acquisti una licenza, più split contract potrai concludere. Sullo schermo puoi vedere il limite extra che puoi ottenere se acquisti una licenza all'inizio della promozione. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di ottenere il limite massimo che ti permetterà di risparmiare in modo significativo sugli split. Acquista subito le licenze, mentre sul mercato viene immesso il numero massimo di ultima al giorno e ottieni la più alta ricompensa giornaliera possibile. Grazie a tutti.